Buongiorno a Notaio Giorgia Manzini. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti. Torniamo a parlare di case e soprattutto di super bonus, molto si è discusso nel nostro paese rispetto al costo di questa misura. Infatti perché dall'indagine dell'Istat che si è conclusa in questi giorni è emerso che il costo del super bonus si è letteralmente quadruplicato rispetto alle stime iniziali. Sale infatti a 150 miliardi di euro il costo e i numeri aggiornati sui conti annuali della pubblica amministrazione. Quindi ci sarà un aumento del deficit del 2023 e un aumento del debito pubblico che si spalmerà nei prossimi anni. A cosa è dovuto questo continuo rialzo dei costi previsti inizialmente? Innanzitutto alle innumerevoli deroghe per questo super bonus al 110%. Ricordiamo che per i condomini c'è stata una proroga al 17 febbraio per la presentazione delle CILAS, quindi per poter ottenere di nuovo l'agevolazione. Ricordiamo anche che la misura è ancora in vigore con l'aliquota piena per quegli immobili che si trovano nei territori danneggiati dal terremoto e per le RSA. Quindi avremo un deficit medio del PIL all'8,5%. Ritorniamo cioè ai livelli di crisi dei primi anni 90. E' di questi giorni, sarà elaborato in questi giorni dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali. E verrà elaborato un testo unico che si prevede di oltre 3.000 pagine per mettere ordine in queste tax expeditures. Da qui emerge, perché i lavori sono già in corso, che il buco del super bonus ha pesato moltissimo. Quindi è vero che c'è stato un deficientamento energetico dei nostri immobili, perché ricordiamo che quasi la metà della spesa è stata indirizzata verso il rifacimento degli involucri esterni dei nostri edifici, sia verticali che orizzontali, il cappotto termico e i tetti. Questo ha sicuramente migliorato il risparmio energetico dei nostri edifici. Tuttavia i costi hanno notevolmente superato i benefici. Abbiamo dei messaggi da casa, alcuni li abbiamo raccolti questa settimana, altri stanno arrivando ora. Una persona dice che dobbiamo fare dei lavori nel condominio da due anni, i soldi ci sono, ma l'amministratore non li fa. Come possiamo fare? Anche qui ci viene in aiuto il codice civile con le norme sul condominio. Ricordiamo che c'è un articolo, l'articolo 1130 del codice civile, riformato nel 2012, sugli obblighi a cui è tenuto l'amministratore di condominio. Uno di questi obblighi è proprio dare esecuzione alle delibere assembleari e raccogliere i contributi relativi per questi lavori. E dunque come si può fare? Si può ricorrere alla revoca dell'amministratore. C'è un'altra norma, l'articolo 1129 del codice civile, che ci dice che l'amministratore è nominato e revocato dall'assemblea, è nominato per un anno, può essere prorogato e può essere revocato anche senza giusta causa. Questo significa che poi avrà diritto a un risarcimento del danno. In questo caso, quando l'amministratore non esegue i lavori deliberati e già finanziati dal condominio, ecco che allora ricorre una giusta causa. Si potrà quindi revocare l'amministratore e anche chiedergli eventualmente un risarcimento del danno. Ma come si convoca l'assemblea condominiale se l'amministratore è inerte, l'amministratore è il soggetto che dovrebbe convocare? Ecco che allora si può procedere in due modi, o informalmente, e quindi i condomini si sentono tra di loro, si mettono d'accordo e poi procedono a riunirsi in assemblea, o meglio formalmente, radunando un sesso dei millesimi del condominio e quindi richiedendo all'amministratore la convocazione dell'assemblea, eventualmente è possibile anche ricorrere all'autorità giudiziaria, anche per la revoca dell'amministratore. Quindi i rimedi ci sono, è necessaria tuttavia la consulenza di un legale in questi casi. Tra l'altro appunto la giurisprudenza si è espressa anche recentemente su un caso di irregolarità dell'amministratore che non aveva presentato i bilanci, quindi inadempimento degli obblighi dell'amministratore, stabilendo appunto che si può prevedere anche una riduzione del compenso. Un messaggio è arrivato ora. Dopo la separazione il coniuge non vuole cambiare la residenza. Cosa fare? Cosa comporta? Sì, questo è un caso tipico nelle separazioni perché ricordiamo che la gestione della casa coniugale è sempre un tema delicato. Ricordiamo che la separazione fra coniugi può essere con addebito o senza addebito. L'addebito è una misura sanzionatoria che ha degli effetti molto importanti. Si perde il diritto al mantenimento, si perdono i diritti successori. Rimane invariato invece tutto il sistema di gestione della casa coniugale. Ecco allora che anche qui occorre con la consulenza di un legale, il consiglio notarile è sempre quello di trovare un accordo civile nei limiti del possibile. Però anche qui si possono stabilire le condizioni e creare quindi anche delle conseguenze per questo in addempimento. Perché ricordiamo che la residenza, porre la residenza in un determinato immobile ha degli effetti molto importanti sia fiscali che civilistici. Un messaggio è arrivato stamattina molto presto. Un testamento olografo, semplice, riservato, economico, è legalmente sufficiente a favore del figlio non avendo altre persone coinvolte? Il testamento olografo è un documento validissimo quanto alla forma se vengono rispettati i requisiti di legge. Ha la stessa portata, lo stesso effetto legale del testamento pubblico redatto dal notaio che è più solenne, viene conservato con tutte le modalità notarili, quindi non corriamo il rischio che vada perduto, il notaio compie degli accertamenti, ma l'effetto, la forma, l'eseguibilità e l'efficacia dopo la morte sono assolutamente identici. Il testamento olografo richiederà un verbale di pubblicazione del notaio di fronte ai testimoni dopo la morte del soggetto, il testamento pubblico richiederà analogamente un verbale cosiddetto di registrazione in cui passerà dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti travivi. Quindi è vero che è economico, è vero che è riservato, che si può fare in casa. Consigliamo sempre però di mostrarlo a un notaio perché valuti la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Spesso vediamo dei testamenti olografi fatti in casa che mancano di alcuni requisiti e in questo caso poi diventano invalidi sotto vari aspetti e dunque è meglio prevenire queste irregolarità facendo vedere il testamento ad un notaio ed eventualmente consegnandolo anche a un notaio di fiducia, fiduciariamente appunto per la conservazione affinché in casa non vada perduto o ancora peggio non venga sottratto che è un reato. Una persona dice io sono rimasta vedova, cosa devo fare con l'amministratore? Con l'amministratore di condominio dipende a chi era intestata la casa, comunque basta una comunicazione sulla casa coniugale anche se era dell'altro coniuge. La vedova ha un diritto di abitazione, vita naturale durante e di uso dei mobili e dunque comunque ha tutti i diritti di intervenire in assemblea e di continuare ad abitare la casa. Se ha dei figli probabilmente si è creata una comunione ereditaria sulla quota del marito o sull'intero del marito se era proprietario dell'intero immobile i figli sono subentrati con la quota di legittima o con la successione legittima ma in questo caso naturalmente c'è un rappresentante comune che parteciperà alle assemblee e andrà quindi a rappresentare la comunione ereditaria nei confronti dei terzi. Un altro dice siamo in tre villette, l'antenna è su quella centrale, il proprietario dice che è sua, si può fare? No, se l'antenna serve tutte e tre le villette si tratta di un condominio cosiddetto orizzontale con degli impianti o delle parti comuni di uso comune e dunque si applicano anche qui le norme del codice civile. Cosa significa? Che se l'antenna è comune serve le tre villette ecco che allora sarà possibile l'accesso anche agli altri proprietari delle villette contigue per la manutenzione e la riparazione di questa antenna. È tutto disciplinato dal codice civile. La signora che ha scritto prima, che è rimasta vedova, che ha l'usufrutto sulla casa. L'usufrutto, benissimo, probabilmente l'è stato lasciato dal coniuge o in sostituzione di legittima o con una disposizione. L'usufrutto è qualcosa di un po' più ampio del diritto di abitazione, sono sempre diritti reali, diritti che sono vitalizi, quindi durano fino all'ultimo respiro, nessuno può chiedere alla signora il canone di locazione, nessuno la può mandare via, nessuno può entrare in casa e questo le consente anche appunto di essere il soggetto con un diritto attuale che può intervenire nelle assemblee di condominio. Altri messaggi? Ho una casa singola con due appartamenti, uno abitato da noi e uno dal figlio che ha lì la residenza. Perché devo pagare l'Imu sull'appartamento del figlio? Perché nel nostro sistema l'Imu è collegato alla proprietà, ricordiamo che l'Imu è un'imposta che riguarda la fase funzionale e non genetica dell'acquisto della casa, quindi se acquistiamo come prima casa, perché in quel momento, nel momento del rogito ricorrono i requisiti, ma non spostiamo la residenza o non abitiamo noi quell'immobile personalmente, e quindi non diventa la nostra abitazione principale, non abbiamo l'esenzione Imu. Quando si hanno due case, anche se si dà l'immobile al figlio, ecco che l'Imu non è più esente. Qualche anno fa era sufficiente stipulare un comodato per l'uso gratuito al figlio, in questo modo il figlio era esentato dal pagamento dell'Imu. Oggi, dal 2020, è stato introdotto un bonus Imu, cioè il proprietario, che ha due appartamenti, sul primo, che è abitazione principale, è esentato dall'Imu. Sul secondo, invece, deve pagare l'Imu, ma c'è questo bonus, è ridotto al 50%, se la seconda unità immobiliare è concessa in comodato d'uso al figlio, al coniuge o ai parenti in linea retta. Quindi è già una misura piuttosto agevolativa. Un altro dice, nostra figlia è morta dopo aver partorito una bambina che adesso alleviamo noi nonni. Il padre della bimba, che non era sposato con mia figlia, non è affidabile, vorremmo escluderlo dalla nostra eredità. Abbiamo anche un'altra figlia. Cosa dobbiamo fare? Ecco, allora, il padre della bambina sicuramente non eredita direttamente, ma la bambina sì, qualora dovesse aprirsi la successione di uno dei nonni, ricordiamo che le successioni anche dei coniugi sono due fenomeni paralleli, ecco che allora la bambina subentra in luogo della madre premorta nella posizione ereditaria, unitamente all'altra figlia di questi signori. Quindi ereditano la figlia vivente e la figlia della figlia premorta. Il padre di questa bambina, come subentra? Ci rientra dalla finestra, perché il nostro sistema prevede l'usufrutto legale del genitore sui beni del figlio minore. E dunque, come possiamo arginare questa situazione? C'è una norma che i Neutai applicano, perché è una norma proprio ad hoc, è piuttosto risolutiva in questi casi, che ci consente di nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati alla bambina. Quindi è un'eccezione, un limite alla cosiddetta potestà, alla vecchia patria potestà del padre, quindi un limite a questo potere di amministrazione del genitore sui beni del minore. E questo curatore speciale, quindi, amministra e esclude il genitore dall'amministrazione dei beni e amministra direttamente i beni ereditati dalla bambina dai nonni, con tutte le tutele previste per il tutore, cioè applicando tutte quelle norme, l'autorizzazione del giudice tutelare, o per gli atti più rilevanti, o del tribunale, con l'autorizzazione del giudice tutelare per le vendite dei beni e per gli atti di una consistenza, diciamo, di amministrazione straordinaria per il patrimonio della bambina. Quindi è un'ottima soluzione perché ci consente di escludere dall'amministrazione di questi beni della vostra famiglia il padre della bambina, che rimane però titolare di tutti quei poteri, doveri legati alla potestà, quindi la cura, l'educazione, sarà lui a dover accettare l'eredità vostra da parte della bambina con beneficio di inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare. Si rivolga a un notaio che saprà trovarle e applicare questa soluzione al vostro caso concreto. Notaio, una persona chiede, la tassa di tacita accettazione di eredità è una tantum o si paga tutte le volte che vendo, forse? Ottima domanda, certo. È una domanda che ci rivolgono spesso i clienti perché è una formalità che è diventata obbligatoria nel 2005. È molto importante perché spesso non serve a nulla ma è volta a risolvere dei casi che possono diventare gravissimi. Cosa succede? Che quando muore una persona si presenta la dichiarazione di successione che è un adempimento fiscale che viene trascritta e gli eredi pensano così di avere concluso tutti i loro adempimenti e di avere già pagato abbastanza. Quando vanno a vendere un bene ereditario, se non hanno espresso, non hanno dichiarato la volontà di accettare l'eredità in modo espresso e questa dichiarazione non è stata trascritta nei registri immobiliari, ecco che allora occorre saldare la catena in conservatoria nel nostro sistema formale, la catena di tutte le trascrizioni, quindi anche il passaggio dal defunto agli eredi. È una trascrizione molto importante perché ha un effetto dichiarativo di opponibilità ai terzi, quindi rende inopponibili tutte le vicende della successione anche ai futuri acquirenti. La trascrizione della denuncia di successione è un'altra cosa a funzione di mera pubblicità notizia, quindi non ha questo effetto di saldare la catena delle trascrizioni. Si paga una volta sola, qui ci sono due teorie, fino a qualche tempo fa si dice che l'accettazione di erede è una sola, la qualità di erede è unica, non può essere parziale, si accetta o tutto o niente, quindi sarebbe sufficiente eseguire una di queste trascrizioni per un solo immobile, poi puoi vendere tutti gli altri immobili ereditari senza dover ripagare quelle centinaia di euro che sono richieste. Ecco invece che secondo l'ultimo orientamento anche del notariato, se le conservatorie sono più di una, cioè non tutti gli immobili sono a Reggio Emilia, ha più immobili, ma non tutti a Reggio Emilia, cioè in vari comuni per cui c'è una conservatoria dei registri immobiliari diversa, ecco che allora per consentire questa continuità, questa conoscibilità ed ottenere l'effetto dell'opponibilità, si consiglia, sarebbe consigliabile e opportuno eseguire la trascrizione anche negli altri comuni dove sono situati gli altri immobili ereditari, in questo caso occorrerà, ahimè, ripagare la cosiddetta... però se l'immobile è uno in un unico comune basta una volta sola. Basta una volta sola, anche se gli immobili sono di più ma sono tutti nello stesso comune, di Reggio Emilia ecco che la conservatoria è unica, io ritengo sufficiente una sola trascrizione proprio ai fini di economia dei mezzi giuridici ed economia finanziaria. Notaio torna la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, lo dico per chi sta mandando altri messaggi, li raccogliamo durante la settimana e poi risponderemo. Grazie Notaio. Grazie Susanna, buona giornata. A presto.